Allora bisognava raggiungere uno sbalzo di questo tempo e bastava guardare qualsiasi strada di città che era illuminata con certi archi così, non come è illuminato in questo momento asperi, con delle lampade che vanno su qua, hanno tutti una base, per poi portare una lampadina sopra, ma questo succede in tutte le città che vogliono, è cosiddetto, arredo urbano. Ok, we needed to reach a certain distance from the base of the lamp to the table, so one very easy suggestion were the street lamps, not like the ones that are in Aspen now, that are just going straight on, then they have a little lamp up then, for those that you find everywhere they reach with a beam reached a longer distance. Allora, per ottenere questo sbalzo era necessaria una base, una base economica ancora oggi è una base di marmore, come ha lavorato in Italia, non per lusso, ma per costo. Ok, to reach such distance we needed a very heavy basis, and also an economic one. and in Italy marble is very economic, so this marble basis was going to be an economic and simple way to give a heavy basis to the lamp. Comunque, purtroppo è a portare una luce a distanza. Ah beh, ci vorremmo dire... And this is also a portable lamp. And here he says, because of this thing.... This thing is good. And that's what you said. And that's what I said... No 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 no.... And this is a phenomenal старbike. Here I come. Biology. farmerna... legen green 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 yellow green 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 lan zdrowotue . Un altro apparecchio illuminante interessante può essere questo, il fatto che questo mette in evidenza che la luce è artificiale e quello che è inutile tante volte spostarsi ad inventare il colore della luce, c'è anche tutti e tutte gli apparecchiatori, per eliminare la luce del giorno. C'è la luce artificiale, cerchiamo di adoperare la luce artificiale in modo completamente diverso di quella che è la luce del giorno. La luce del giorno arriva dall'alto, la luce artificiale che arrivi dal basso. A questo punto è chiaro che questa luce che viene dal basso è chiaramente regolata proprio in questo senso per fare quegli effetti che ci hanno insegnato la cinematografia, il teatro eccetera. E' una lampada che deve essere presa a calci e... Oh, tutto che non sento! E' perché se cazzo il filo! E' fatta appunto opposto e quindi deve avere delle caratteristiche italiane per essere adoperata. Quindi ricerca di materiali, di altre cose, che fanno tutto il complesso poi dell'operazione per arrivare poi al prodotto finito.